Come va questa nuova esperienza per te, con un nuovo team e in una nuova città? Sono molto animata per questo, ciò che succede in mia vita. Sono in Italia, era il mio sogno di venire in Italia. Voglio migliorare, che sono qui e mi piace molto. È una molto bella esperienza per me. E anche con le ragazze, mi piace molto l'Italia, la città e tutto. È molto bello. Quindi ti piace la città, Cuneo? Sì, mi piace la città, è una piccola città, ma mi piace. Siamo tutti insieme, mi piace, sì. Sì, la città mi piace molto, è piccola e abitiamo tutte vicine, per cui anche nel tempo libero riusciamo a frequentarci. Sei pronto per te e il team per il primo match ufficial? Dopo cinque mesi, finalmente, giochiamo l'office, il Saturday con Monza. Questa settimana, praticiamo nel corso così difficile per questo gioco, ma mettiamo il nostro 100% per giocare bene e vedremo come fare i risultati. Sì, torniamo a giocare una partita dopo sei mesi e non vediamo l'ora, ci siamo allenati duramente. In queste settimane daremo il 100% sabato. Quale è la settimana, cosa pensate che Cuneo può fare in questa settimana? Siamo una squadra molto piccola, abbiamo bisogno di migliorare molte cose, ma credo che se abbiamo buona pratica e lavoriamo molto tutti i giorni, possiamo farlo giorno per giorno, possiamo essere migliori. Credo che siamo una squadra nuova, ma siamo una buona squadra. Siamo una squadra molto giovane, ma abbiamo delle buone potenzialità e sono convinta che se ci impegniamo giorno dopo giorno in palestra potremo migliorare e raggiungere obiettivi importanti.